Amici del Trevignole quel che vede e quel che resta di una sessantina di olivi che Roberto Emanuelli questo orzo la aveva piantato 5 anni fa qualche domo è stato alla briga di tagliarli fortuna in colpometto vede guarda lì e gli olivi una sessantina guarda guarda che disastro finché a Pazaro dove Roberto aveva messo un'azienda agricola ormai da tempo e fra l'altro venne a far vedere i vigneti insomma lei è una bella aziendotta. Roberto quando hai fatto questa scoperta? domenica mattina stiamo mettendo in posto gli animali che hanno portato con le galline da accomodare e ti hai trovato il disastro? e vieni la nef e mi pensavo che non vuole l'olivo, se spaccare con la nef ma con la nef se ne spaccare uno, se ne spaccare due, se ne spaccare tre, sessantina mi pare a massa spaccare con la nef dal noccio è chiaro che l'estana sforvesata con la roncola, sarlata esatto, mi dicevi che fai te accopare con i cani? si, due anni fa, l'autopsia l'ha stabilito che l'estana coltellata ho capito qualche buona anima l'accopare un border colli, un aggressivo border colli si sa che i border colli le cani hanno coltellato si, le cani pericologissime dei quattro deseani che hanno scoltellato e l'accopare chiaramente all'est te denuncii tutti i carabinieri già ha denunciato i carabinieri, i quali la slarga i brazzi, i vado manda sospetti e ti trovi il barzzi anche a te e che dici? ma... ciò perché di notte, io lavorano ora ma qualcuno l'ha visto perché sei sulla strada si, si, si vuol dire che qualcuno l'abbia visto, no? no, chiaro, chiaro, chiaro però insomma non ho dei buoni rapporti con la popolazione locale o sbaglio? diria che ho visto meglio? ho capito, ho capito ho visto meglio, non con tutti per l'amore del signor abbiamo anche amici che può dare certo che torcerà con gli oli, insomma, e con i cagni e pezzo ancora torcerà con gli oli esatto, esatto insomma, Roberto, tanti auguri speriamo che la finissà qui che la finissà qui speriamo che la finissà qui l'avreste imparata